salve a tutti a tutti gli scettici dell'auto elettrica ecco qui una colonina gratuita veramente gratis come indica next charge abbiamo collegato la nostra auto vedete che sta caricando a 24 ampere e qui la testimonianza che l'auto è collegata alla mia twingo vedete siamo all'agriturismo anselmi in provincia di udine e mentre ci gustiamo un bel piatto di affettati misti la nostra auto è in ricarica ora paghiamo il conto senza pagare niente della ricarica quindi completamente gratis andiamo a ritirare la nostra auto guardiamo prima quanto ha caricato nel frattempo nella mezz'oretta di pausa che abbiamo fatto e siamo 7 kilowatt e 50 completamente gratuiti come vedete arrivederci